Almeno sette feriti assumono un massiccio attacco di droni russi mercoledì su tutta l'Ucraina. Dopo l'affondamento del pattugliatore russo con droni marini, Kiev punta la produzione nazionale delle imbarcazioni senza pilota per colpire le navi di Mosca. Striscia di Gaza, ancora nessun progresso nei colloqui per il cessate il fuoco. Gli Stati Uniti esortano Hamas. L'accordo è nelle vostre mani. Fate un passo avanti. Almeno sette persone sono rimaste ferite assumi nel nord-est dell'Ucraina. La città è stata attaccata come altra nel resto del paese da 42 droni russi, 38 abbattuti, secondo le forze armate ucraine. Una donna di 60 anni è morta invece nella regione del Donetsk. Tra le città colpite c'è anche Odessa, dove era presente il presidente Zialensky per incontrare il premier greco Kiriakos Mitsotakis. Nessuna conseguenza per le delegazioni, secondo media greci. Gli ucraini hanno contrattaccato in diverse regioni russe di confine. In quella di Kursk è andato a fuoco un deposito di carburante di un impianto minerario. Secondo il Ministero della Difesa di Mosca, nelle ultime 24 ore l'Ucraina ha perso 460 militari intorno ad Avdivka, mentre sono stati uccisi 1250 soldati russi, secondo le forze armate di Kiev, per un totale di 420.000 dall'inizio dell'invasione. Nonostante il conflitto in corso in Ucraina, già prima dell'invasione russa, Kiev noscherava molte unità navali da guerra. La produzione nazionale si starebbe ora concentrando sulla fabbricazione di droni marini, imbarcazioni indipendenti senza pilota che possono navigare sull'acqua tramite telocomando o autonomamente e che possono essere dotati di missili. Presentato dal Servizio di Sicurezza Ucraino, l'ultimo modello di Sea Baby, il drone marino è in grado di trasportare più di una tonnellata di esplosivo, può viaggiare a una velocità di 90 km orari e coprire una distanza superiore a 1000 km. L'Ucraina sostiene di essere il primo paese, ad aver creato un'arma simile per un costo di circa 221.000 dollari. Sea Baby viene progettato e testato nel paese, alcuni componenti sono però importati dall'estero. I colloqui per un cessate il fuoco nella striscia di Gaza non hanno fatto alcun passo avanti in questi tre giorni di mediazione al Cairo. Gli Stati Uniti hanno invitato Hamas a fare un passo avanti ad accettare l'accordo definito razionale. Durante un incontro con il presidente palestinese Mahmoud Abbas, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha messo in guardia Israele da limitare l'accesso ai luoghi sacri musulmani di Gerusalemme durante il Ramadan. Martedì la Giordania ha effettuato un'altra operazione umanitaria via aerea insieme agli Stati Uniti, alla Francia, all'Egitto e agli Emirati Arabi Uniti. 8 aerei hanno lanciato 36.800 pasti sul nord della striscia di Gaza, dove quasi mezzo milione di persone rischia di morire di fame. Le elezioni del Super Tuesday consegnano una vittoria netta a Donald Trump e a Joe Biden. Il candidato repubblicano ha conquistato 13 dei 15 stati in palio, mentre si attendono i risultati in Utah in cui l'ex presidente è favorito. La sfidante Nikki Haley ha vinto in Vermont, ora dovrà decidere se continuare o meno la gara, anche se conquistare la nomination sembra ormai impossibile. Sul fronte democratico, il presidente Joe Biden si è invece affermato in tutti gli stati chiamati alle urne martedì, con un margine di vantaggio schiacciante rispetto agli avversari molto meno noti, tra cui il deputato Dean Phillips e l'autrice Marianne Williamson. For Nikki Haley, the former governor here in South Carolina, there was just the one surprise win this Super Tuesday in the state of Vermont. But no victory speech, though her campaign said staff were jubilant. There were no public remarks from her here in Charleston, while Donald Trump rightly declared victory. There was no mention whatsoever of Nikki Haley and Donald Trump's speech in Florida. He's moved on from these primaries, and so has President Joe Biden. Both men now firmly pivoting to the general election, the repeat of the duel in 2020. Trump has firmly cemented his role as the leader of the Republican Party on this Super Tuesday. He's not yet the presumptive nominee, but that could happen within a week. And the same goes for Joe Biden. Eight months of campaigning now await us here in the United States. And Joe Biden will have his work cut out because recent polling shows that Donald Trump can win in november. Philip Crowther, Euronews, in Charleston, South Carolina. Von der Leyen, che punta sulla difesa comune per la rielezione a giugno. Von der Leyen ha promesso di introdurre un commissario per la difesa, una responsabilità oggi condivisa tra quello per il mercato interno e l'alto rappresentante della politica estera. La Commissione ha proposto una serie di misure per attuare la nuova strategia. Nella proposta presentata al Parlamento, la Commissione stanzia un miliardo e mezzo di euro in due anni. Apre anche la possibilità di utilizzare degli euro bond, obbligazioni congiunte degli stati per finanziare le spese militari. A patto tuttavia di evitare di acquistare armi da produttori extra UE come Stati Uniti o Regno Unito e di rispettare un impegno già preso in ambito NATO, vale a dire spendere almeno il 2% del PIL dei paesi membri per la difesa. Il dibattito sulla difesa comune è un vecchio tema dell'integrazione europea ha ripreso slancio con la guerra in Ucraina. L'aggressione della Russia ha reso urgente rafforzare la nostra industria militare, ha detto martedì a Bruxelles l'alto rappresentante per gli affari esteri Borrell. Sul futuro pesa anche la possibilità di un ritorno alla Casa Bianca nel 2025 di Donald Trump che non ha risparmiato finora critiche alla NATO e agli aiuti all'Ucraina. E' stato rivendicato da un gruppo di ambientalisti l'incendio nei pressi dello stabilimento Tesla in Germania. Le fiamme sono divampate in seguito all'esplosione di una sottostazione della rete elettrica vicino alla fabbrica. I lavoratori sono stati evacuati e la produzione è interrotta. Da subito la portavoce della polizia di Brandeburgo aveva ipotizzato l'origine dolosa dell'incendio. A rivendicare il sabotaggio è il movimento denominato Vulcan. La Gigafactory europea è dunque nel mirino. Tesla distrugge la terra e consuma le risorse, ha scritto nel suo messaggio il gruppo di ecoterroristi che accusa lo stabilimento di deforestazione, di inquinare le falde acquifere e di consumare ingenti quantità di acqua. Un centinaio di ambientalisti presidia la foresta per dire no al piano di espansione dell'impianto. Facebook e Instagram sono stati inaccessibili per centinaia di migliaia di utenti martedì in tutto il mondo. Il disservizio ha coinvolto per due e circa anche altre app della galassia meta, da Whatsapp a Messenger a Threads. Sidi specializzati hanno parlato di circa 500.000 segnalazioni di malfunzionamento per Facebook e di 70.000 per Instagram. Le difficoltà sono state causate da un problema tecnico di cui ci scusiamo, ha scritto su X il portavoce di Meta Andy Stone. Lo statunitense Jeff Bezos diventa nuovamente l'uomo più ricco del mondo. Il patrimonio del fondatore di Amazon ammonta a 200 miliardi di dollari, superando perfino quello di Elon Musk, valutato in 198 miliardi di dollari. Mentre lunedì le azioni di Tesla sono scese, Amazon sta registrando la migliore crescita delle vendite online dall'inizio della pandemia. Bezos ha dovuto aspettare tre anni per riconquistare il titolo di uomo più ricco del mondo. In Spagna il dibattito è servito. Si deve anticipare la chiusura dei ristoranti come proposto dal governo? La ministra del lavoro, Yolanda Díaz, ha detto che gli attuali orari non sono in linea con quelli del resto d'Europa e ha proposto di anticipare la chiusura di un'ora. Non è razzonabile che Spagna sia un paese in cui convochiamo a riunioni a le 8 di la tarda. Non è razzonabile un paese che tiene abierti i ristoranti a la 1 della madrugada. Negli imprenditori e nei lavoratori del settore alberghiero sono favorevoli alla chiusura anticipata. Anche il presidente degli albergatori respinge la chiusura anticipata dei ristoranti sottolineando che l'industria dell'ospitalità in Spagna è l'invidia del mondo. In Spagna sono le comunità autonome a decidere gli orari di bar e ristoranti. Ad esempio a Madrid i ristoranti possono aprire dalle 10 del mattino sino alle 2 di notte. Possono prolungare di mezz'ora il venerdì, il sabato e la vigilia dei giorni festivi. Grazie. 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 Grazie.